Un altro genere, questa volta è la classe di moderno intermedio avanzato che ha fatto un lavoro veramente molto interessante, coreografato da Giovanna Valerio che è un esperto del settore, che è uno dei docenti del liceo coreutico del teatro di Torino e quindi vediamo il suo lavoro, Giovanna Valerio, moderno intermedio. Grazie. 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 Grazie.